La Feste dei Popoli Europei nasce dalla volontà del Consiglio regionale di valorizzare i nostri territori, le nostre aree archeologiche, in particolare seguendo il tema dell'Europa, quindi le tante identità europee fanno la grande patria europea dove tutti noi ci riconosciamo, l'Europa dei Popoli è quella che noi aspiriamo e che vogliamo, quindi oggi è una giornata di contaminazione in cui si alterneranno in questi due giorni galiziani, bretoni, scozzesi, culture diverse che però fondano la grande Europa. Oggi attraverso la musica vogliamo far scoprire a tutto l'Abruzzo, ma non solo, l'area stupenda di Peltuinum, qui c'è un tempio dedicato ad Apollo, c'è un anfiteato romano e proprio qui noi abbiamo scelto di fare il concerto di Roberto Vecchioni per valorizzare appunto questo territorio.